Senatore Erola, lei non intravede questo rischio per quanto riguarda in particolare la parte delle adozioni? Guardi, innanzitutto bisogna riconoscere che noi siamo dei legislatori che si confrontano con una realtà sociale che va avanti a dispetto della nostra visione della realtà. Ci sono migliaia di famiglie, arcobaleno, ci sono già bambini che vivono con genitori omosessuali, ci sono coppie di fatto etero e omosessuali che convivono e che richiedono i diritti. Quindi al di là di tutte queste valutazioni terroristiche, perché purtroppo è un tema che viene strumentalizzato come arma di distrazione da altri problemi. Noi stiamo parlando, prima il senatore Giovanardi parlava dello sfruttamento della miseria, cioè il tessuto sociale è in queste condizioni non certo perché si riconoscono i diritti civili, è in queste condizioni per delle scelte economiche e politiche a cui il senatore Giovanardi ha anche partecipato, votando la legge Fornero piuttosto che altre leggi che hanno pregiudicato fortemente la stabilità dell'unità familiare in Italia. Mi so che sta toccando i temi economici, una domanda. La pensione di reversibilità, riconoscere questa pensione comunque comporterebbe un aggravio per le casse dello Stato, ce lo possiamo permettere? Sì, assolutamente sì. Alcuni dicono 20 milioni di euro, altri 100, però bisogna anche considerare che sono soldi che i contribuenti hanno versato, quindi sono soldi loro, non è che andiamo a sottrarre delle risorse dallo Stato. Poi anche lì, se vogliamo aprire un dibattito sul problema delle risorse dello Stato, forse i problemi stanno altrove, non stanno nelle, ripeto, poche migliaia di coppie che essi troveranno a affrontare appunto un'unione di fatto, eccetera. Sulla questione delle adiozioni, ci sono numerosissime sentenze, nell'interesse del minore, badate, non del genitore, del minore. Uno, l'ultima è stata qua del Tribunale di Roma l'anno scorso, che ha riconosciuto nel suprema e massimo interesse del minore l'affidamento a una coppia di donne che avevano avuto un figlio con la fecondazione eterologa e semplicemente si riconosce la possibilità di adottarla al genitore non biologico, non stiamo parlando di adozioni ex 9. Quindi bisognerebbe anche spiegare a queste persone che se loro vogliono tutelare i minori, in modo migliore fargli stare con chi ha sviluppato un rapporto di padre-figlio o padre-madre, cioè adesso andarli a prendere per mano, a portarli via dal papà o dalla mamma per dirgli guarda che tu stai crescendo in una famiglia sbagliata, lo facessero, oppure proibiamo qualsiasi tipo di situazione che non sia quella canonica o almeno quella che fino adesso è stata considerata come famiglia canonica. Mi spiego? Allora, questi signori qua, nelle precedenti leggi di legislatura, hanno votato delle leggi che hanno fatto dei danni a livello sociale spaventosi. Allora questo è un sistema per, come dicevo prima, distrarre il problema della schiavitù, esiste, ma è quello dei lavoratori, dei pensionati. Prendiamo caso, parliamo di reversibilità, c'è adesso un caso di incostituzionalità, di adeguamento delle pensioni che è stato scatenato da una legge che hanno votato questi signori quando erano al governo e ci procurerà 16,6 miliardi stimati dal CGA di Mestre. Allora, sarà il problema Elton John e le sue decisioni che peraltro non riguardano la legislazione italiana, attualmente lo Stato italiano, o comunque sono casi minimi, o vogliamo concentrarci sul problema della schiavitù che invece è quello che certe politiche hanno generato. Se un ragazzo oggi non può mettere su una famiglia, è anche per il fatto forse che non ha con i contratti a tutele crescente la possibilità di chiedere, o con le varie forme di precariato che si sono affermate negli ultimi anni, un mutuo in banca? E forse questo è il problema. Allora, questa argomentazione, chi ha distrutto le famiglie, non sono di sicuro i diritti civili. Noi siamo stanchi di continuare a sentire questo tipo di argomentazione che andrebbero a ledere da parte di chi ha distrutto il tessuto sociale di questo Paese. Aracri, puoi rispondere? Anche sulle pensioni, anche sulle pensioni. Solo una cosa, c'è un report della Commissione europea, che ha di quest'anno, sulle social investment in Europe, quindi sugli investimenti nel sociale, che dice che la spesa nazionale, il fondo complessivo per le politiche sociali, è stato ridotto dal 2008 del 58%, che la spesa nazionale per il miglioramento dei servizi di assistenza familiare è diminuito dell'88% tra il 2008 e il 2014. Ma sarà questo il problema o poche, ripeto, migliaia di persone che chiedono danni come in altri Paesi europei? Ma questo come sappiamo è un problema che va avanti gli anni, le risorse destinate alle famiglie, alle spese sociali. Le autosufficienze, stiamo scaricando tutto sulle spalle della famiglia, hanno tagliato su tutto. Ci sono 17 Paesi in Europa che hanno le unioni civili, 11 che hanno il matrimonio ugualitario. E non mi sembra, come diceva tra l'altro la deputata del PD, che questi Paesi versino in condizioni così drammatiche, come vorrebbero far vedere. Si voleva andare oltre, come dicevamo in un primo momento, è un capitolo chiuso, va bene così il provvedimento? Io penso che, per adesso vada bene così, sono due cose diverse, l'affidamento e l'adozione. Quindi vanno normate in modi diversi, quindi certamente anche qui bisogna tenere sempre al centro il bambino, l'interesse del minore. Quindi tutto quello che va nel supremo interesse del minore va considerato come fondamentale. Allora, a proposito, vado subito dal senatore Airola, perché durante il servizio commentava, diceva, non è difficile. No, non lo è. Forse è difficile però trovare un punto di equilibrio su questo, sarà difficile? Ma non se si usa il buonsenso. Questi libricini a cui accennava prima il senatore Racki, erano dei libricini che Lunar, che è un ufficio governativo antidiscriminazione, razziali, si dovrebbe togliere la R di razziali, ormai considerarle tutte le dimischinazioni culturali, religiose anche, perché no? Aveva fatto dei libricini per spiegare ai docenti, rivolto quindi ai docenti, determinate comportamenti che potevano istigare appunto bullismo o violenza. Peraltro non solo di orientamento sessuale o di identità di genere. Qui stiamo parlando, ripeto, di un tessuto sociale, di una scuola che viene a mancrolla in testa ai ragazzi. Le scuole oramai, perché ci sono stati dei tagli, ieri c'era il mondo in piazza l'altro giorno per la scuola. C'è una situazione familiare appunto anche di disgrecazione, non certo per le teorie del gender fantomatiche che evocano. C'è una situazione in cui i ragazzi a volte sono abbandonati, allora la scuola dovrebbe aiutare questi ragazzi appunto a sviluppare dei rapporti sereni, affettivi, insomma equilibrati senza scaturire in un'instigazione magari quando succede tra giovani, esatto, alla discriminazione. Dovrebbe aprire anche ai vari orientamenti. Stiamo parlando di una cosa molto cristiana, tra l'altro, cioè che riguarda il rispetto e l'amore reciproco. Stiamo parlando di devianze, capite? Alla senatore Airola, come aiutare le famiglie, anche quelle tradizionali? Sono assolutamente d'accordo con Monsignore, le famiglie sono unità basilari alla società italiana e dare questi ditti non toglierà nulla. Quello che serve sono i servizi, le scuole, gli asili, un reddito di cittadinanza e se il senatore Giovanale, il senatore Arac, la deputata Capana ci vogliono aiutare portiamo avanti questo disegno di legge, aiutiamo veramente l'economia a ripartire, l'economia familiare, gli diamo dignità e tutto si sistemerà da solo. Grazie, allora grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi.